amici di fulvio e le sue ricette benvenuti oggi andiamo a preparare dei bocconcini di pollo all'arancia e aggiungeremo un ingrediente particolare la curcuma seguitemi sovraccosce di pollo mi raccomando perché hanno la parte grassa che rilasciano un po più morbidi disossate e tagliateli a cubettoni sale pepe e farina amalgamate tutto per bene con le mani e la base è pronta non ci resta a questo punto che prendere i nostri bocconcini spostarci ai fornelli prendere un wok antiaderente olio extravergine d'oliva e un po di burro lo facciamo sciogliere per bene fiamma mi raccomando moderata due spicchiettini taglio in camicia e un po di rosmarino questi sono gli aromi che andiamo a dare al nostro piatto bocconcini dentro adesso aumentiamo la fiamma perché dobbiamo rosolarli velocemente in questo modo e li fate rosolare per bene così vedete devono diventare leggermente croccanti esternamente senza esagerare togliamo gli spicchi d'aglio e togliamo i mirametti di rosmarino vedete il nostro pollo è quasi cotto guardate qua tanto questi bocconcini coceranno in poco tempo adesso attenzione aggiungiamo prima il vino bianco e lasciamo sfumare la parte alcolica una volta sfumata la parte alcolica sempre a fiamma vivace guardate come si è legato bene il grasso con la parte del vino andiamo aggiungere succo d'arancia e curcuma e deve cuocere solo con liquido delle arance e aromatizzarsi bene con la curcuma coperchio appena raggiunge bollore fiamma moderata e fate cuocere guardate qua che bel colore che ha questo piatto che cremina si è formata e adesso non ci resta che prenderlo guardate qua che bello guardate quanto succulento quando è succulento e quanta cremina c'è lo andiamo a impiattare caldo 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 potete accompagnarlo con un po di pane per da inzuppare dentro il sughetto guardate qua quanto sughetto buono ne avete abbastanza per fare le porzioni una manciata di pepe fresco alla fine un rametto di rosmarino giusto per decorare rendere bello il piatto ed eccolo qua il nostro pollo all'arancia e curcuma è pronto un piatto veloce facile che mangiano pure i bambini ve lo posso garantire un modo alternativo per cucinare un piatto davvero davvero cremosissimo a me non mi resta che salutarvi vi invito a seguirmi nei miei canali social iscrivetevi ai miei canali youtube ciao a tutti da fulvio alla prossima ricetta e provate il mio pollo arancia e curcuma